Bentornati e bentornati a tutti, riprendiamo la nostra giornata con l'incontro pomeridiano che è suddiviso in tre parti. Nella prima parte abbiamo la dirigente Laura Fiorini che ci tratterrà sul tema sembra ieri ma è domani, porta aperte su web con più di dieci anni. Perché Laura Fiorini? Perché Laura Fiorini è stata una delle maggiori diffusori al femminile, noi viene il termine, del nostro progetto nel momento in cui è nato. È nato nel 2003 su iniziativa della loro direttore generale Mario Giacomo Dutto con Fondazione Aspi di cui è presente il Vicepresidente Carlo Puminelli e con il risultato dei cecchi di Milano è presente Fabrizio Sordi. Il mio intervento è duplice, un po' di ricordo e un po' di rilancio. Io mi vanto di essere una mamma, io dico sempre di porte aperte, nel senso che è stato un po' un caso, adesso anche vi spiego questi due signori che sono qui sul palco. Allora, era il 21 marzo 2003, quindi come si diceva questa mattina proprio è il decimo anno. E io mi presentavo con una presentazione che non farei mai più adesso così perché ho capito tante cose, l'ho ritrovata appunto ieri, l'ho cercata un po' a lungo negli archivi miei vecchi e lavoravo allora all'ufficio scolastico, si regionale, si chiamava già e ero nell'ufficio comunicazione con l'ispettore Cassola e ci si occupava appunto del sito sia dell'USR sia dell'allora CSA, forse si chiamava, proprio editorato diciamo. E non so se vi ricordate, sì, è stato anche fino a poco tempo fa, insomma, prima del grande cambiamento, quel sito con quell'imitazione diciamo delle guglie, un po' dell'uomo voleva essere e mi si presenta questo signore qui con tanto di valigetta che ho detto mamma mia chissà chi è e che mi dice ma sa che il vostro sito non è accessibile? Dico no, si vede, lo vedono tutti, cosa mi viene a dire questo qua? E poi dico ma chissà, questo è poi entrato, non sembra più di tanto presentato e invece devo dire che è grazie a lui che Porta Aperte è nata perché da lì si è costituito un gruppo di lavoro prima a livello amministrativo diciamo e poi col 21 marzo proprio all'Istituto dei Ciechi abbiamo iniziato questo cammino, questo percorso e eccoci qua, quindi sicuramente Alberto è il vero, veramente papà se io sono stata la mamma, il papà che ha continuato perché appunto io sono andata non via da USR ma in un altro ufficio dove non mi era più possibile seguire l'accessibilità e questo progetto e niente, poi sono diventata dirigente e quindi adesso anche in questa nuova festa io voglio un po' rilanciare quella che è Porta Aperte anche proprio suffragata da quello che ho sentito questa mattina proprio la necessità di prenderci ancora per mano e cominciare un altro, non un altro percorso diciamo farlo ancora meglio, farlo ancora con l'entusiasmo di una volta Carlo, stavo facendo un po' scorrere le diapositive di dieci anni fa perché ci sono ancora degli elementi che sono sicuramente molto importanti e sono ancora molto attuali tipo appunto che il sito ha una funzione fondamentale per la comunicazione interna e esterna per la scuola ma anche per avere dei collegamenti sul territorio qui eravamo ancora appunto all'inizio quando avevamo i docenti di buona volontà ma vedo che sono rimasti ancora adesso ad avere sulle spalle tutto il peso del sito io dico sempre che i dirigenti sono delle brutte vestie quindi bisogna far crescere bisogna far capire loro l'importanza di questo strumento e poi appunto c'è il problema dell'aggiornamento dei docenti che vanno a implorare dei materiali qualcosa da poter mettere sul sito i lavori del ragazzino che arrivano nei formati nei pesi più assurdi quando arrivano quelli col cd ma come non si può mettere sul sito magari sono mega e mega di roba e quindi si pretende impossibile ed erano i tempi dei siti con le bifanimate con tante cose che si muovevano e anche appunto grazie a loro abbiamo capito essere di un disturbo incredibile credibile ma al di là per le persone disabili ma anche a livello di comunicazione non faremmo più dei siti in questo modo perché la comunicazione deve arrivare efficace efficiente e quindi questa deve essere la cosa importante i passi più o meno che abbiamo fatto quello sicuramente di esportare di diffondere una cultura per l'attenzione per l'accessibilità ma anche l'usabilità erano usciti allora i libri adesso non mi ricordo più i nomi ma le co... troiani tutti insomma quelli che noi eravamo decoratori di questi libri Nielsen esatto certo e devo dire che poi le persone che avevo avuto più vicino sono state sicuramente Alberto che poi mi ha accompagnato nel percorso in USR e poi abbiamo una persona alla quale tengo in particolare un modo che è Demetrio Cacamo queste slide le abbiamo preparate ieri anche un po' insieme oggi non poteva esserci ma ci tengo proprio a nominarlo quindi abbiamo fondato diciamo no, non l'abbiamo fondata si è autocreata questa community anche grazie alla mail in list era una delle prime mail in list dove si diceva va bene cresciamo insieme chi scopre una cosa la dice all'altro e infatti funzionava così non era il problema chi dà chi prende ognuno metteva quello che scopriva ma vedo che ancora adesso magari qualcuno entra un po' timidamente dice ma io sono un uovo non so ma rifaccio domande banali ma noi anche le domande banali sono sempre piaciute perché sono sempre stati stimolo per poter appunto riflettere ad andare avanti e mi ricordo le serate anche che so di Mario con anche Demetrio fino alle 3 di notte mi raccontava per scoprire codice per andare a vedere appunto come potessero funzionare le cose si sono analizzati i siti delle scuole si era fatta anche una prima mappatura per vedere quali erano le scuole che avevano i siti e come li costruivano è iniziata poi anche quella per noi era una conquista ottenere la validazione dal V3C avere questa tripla A era il massimo almeno arrivare ad una A ce l'ho aperto almeno arrivare ad una A per noi era veramente importante era l'epoca di Dreamweaver quando i siti si facevano nelle tabelle e si usava questo software che avevamo avuto anche a prezzi scontati per poterlo diffondere nelle scuole è stato fatto il concorso dei siti scolastici io vorrei velocemente ricordare anche le persone che facevano parte di quel gruppo Mario Gloria Berra ci sono altre persone qua Alessandro Muratori che insomma eravamo i 12-13 più uniti e che si ritrovavano frequentemente c'era stata poi la necessità di formare anche altri docenti sul territorio motivo per cui era nata l'associazione Matite nel Web che si è chiusa recentemente ma proprio perché ormai era finita un po' quest'epoca quindi la formazione formatori che abbiamo addirittura esaminato mi ricordo venivano in USR e facevamo un incontro per vedere per discutere come erano stati fatti i siti e il sito che doveva avere sia questo valore informativo ma anche formativo e quindi didattico e questo ecco è un altro punto che vorrei che teneste a mente per appunto il rilancio che voglio fare e poi la grande svolta che era stata quella dei CMS perché quello ci ha portato a un nuovo modo di fare i siti ecco poi da lì mi sono fermata da un punto di vista tecnico proprio superata le tabelle e poi non sono più stata dietro questi mostri che veramente sono bravissimi finito